Elezioni speciali di 21 pagine con tutti i risultati e commenti sulle comunali regionali ed europee. Al nuovo ospedale di Albe Brassi parla di licenziamenti per gli operai che l'hanno costituito mentre a Santa Vittoria la Reageo lancia nuovi prodotti. Sono 6.000 le donne con aziende agricole nel Cunese e sono attenti all'ambiente. Se i ragazzi di Fossano dell'Albese hanno realizzato una start-up che vale 8 milioni. La stagione piovosa favorisce le zanzare, ci vuole prevenzione. Troppo spesso i treni fanno ritardo tra Torino e Alba, problemi anche per le poste in Valle Belbo. Giornate intense di cultura ad Alba con il Film Festival, la settimana della comunicazione e i concerti gospele. Tra i vigneti di Lange il Politecnico dissemina sensori per il meteo e parte la fiera dei vitigni autoctoni. Queste e tant'altre notizie su Gazzetta d'Albe, ne dico le online dal martedì.